andiamo va ragazzini si esce ma anzi innanzitutto buonasera 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 e si esce si esce si va si va e boh e boh ma si può parlare così perché? ma dai ha scritto lorenzo vasco mlg pro brea sarebbe bear barba ha scritto lorenzo vasco su questa foto bellissima di me che mi ritrai con un baffo alla paul senior ha scritto mlg pro brea grande lorenzo vasco comunque non so neanche cosa deve oggi ho avuto una bella notizia però non ve la posso dire una persona è stata forte e ha vinto basta punto e sono contentissimo bene bene andiamo a dire due chiacchiere giù al bar con gli amizi poi vediamo un po dove andare e la staffa ancora non è stata montata per chi? perché? perché perché? per chi? ti vuoi fare tutto te? ti li caratteristica si stai via comunque ti ha scritto fraframmmakeup per i guanti perfetto purtroppo non posso decidere io che guanti utilizzare Eh vabbè mettiti un guanto in cotone allora so otto Eh no perché come... Eh portati da casa i guanti scusami eh No vedi che quelli sono in lattice e mi fanno infezione Quello dal talco sono quelli anche Mi fanno meno infezione questi qui E ora chiedo io a Fra Fram Makeup Vabbè ti chiamo Fra Makeup Che fa Fra 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 e E se lei prima di mettere il guanto Diciamo lo passa sotto l'acqua corrente Cioè lo bagna all'interno Eh no eh No poi rimane con la mano bagnata no A parte e poi comunque non riusciamo a mettere che si attacca tutto Deve essere asciuccio per essere infilato Che poeta Una poetessa birichì Tu hai detto nemmeno i ragazzate No stiamo togliendo il talco Ma non c'è il talco in quelli verdi Quelli bianchi dicevo io Eh ma siccome noi utilizziamo frutturatamente quelli verdi Quelli bianchi non usano Vado Fra Makeup mi ha stressato Andiamo Beh comunque grazie del consiglio Certo Ringrazia un'amica O un amico No un amico Fra Fra Makeup Sei femmina O sei maschio Sei maschietto o sei femminuccia Comunque sia Uso questi lattici Però sono verdi Fortunatamente non sono quelli bianchi talcati Però ho notato che mi fa poco poco di allergia Meno di quell'altro Però purtroppo non posso decidere io Ho visto che ti chiami Fra Makeup Li faresti un tutorial Per come truccarsi Un tutorial Da Falle un tutorial Per dire Lucia ti devi truccare così Guardala Ferma No mettila la luce Oh è la luce Guardala Ok Perché se si mette il rossetto rosso Sto male Se si mette Cioè sembra poi quelle persone cattive Le donne cattive che si mettono per strada Ecco Di Lucia tu devi usare dei colori chiari Io utilizzo colori chiari Quasi neutri Sì però Il bianco Appena appena il grigio Al massimo il lilla Quali sono i colori Poi gli dice Perché non cambi Ti metti i colori più sgargianti Quando me li puoi mettere Però allora Fra Makeup Ci ti dirà Lucia guarda Che per usare Oppure dagli consigli sul trucco Perché onestamente Ado Ragazzi Siamo qui in Iper In Iper Per vedere alcune cose Per Faccio una camminata Siamo entrando nel modo di Euronics C'è violetta 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 C'è violetta Cover band di violetta Oh yeah Sì 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 Andiamo! Ragazzi della notte voi siete? Ehi, spiore! No, no! Una ragazza che ruba nelle buche della legge Poi di mia madre E' per forza quella di mia madre Una ragazza che da quando era piccola Che rubava Rubava i poveri per dare ai ricchi Allora ragazzi, sapete dove stiamo andando? Ragazzi, lo sapete? Ma lo volete proprio sapere? Stiamo andando? Stiamo andando Da Top Copy! Top Copy! A dopo Ehi, ragazzini! Buonasera! Sono... Ve l'avevo già il 49 Siamo appena tornati Ci siamo mangiati il panino di Top Copy Ragazzi, non vi dico che bontà Proprio Un panino Abnorme Vabbè Abbiamo passato la serata dai miei suoceri Ahhhh Stanco io Stanco Ah! Ora facciamo mangiare la nostra piccina Poi la scendiamo E poi ce ne andiamo a Nin Dritti Dritti a Nin Che cosa dite? Cosa dire? Domani Ho da fare un bel po' di cose ragazzi Un bel po' di cose E E E poi ho inteso neanche di montare la staffa Montare la staffa lì E di mettere altre due mensolette Due mensole E da far sparire quel mobile Fare La panca più qui Più qui E poi incastrare quello Poi questo frigorifer Questo congelatore Oh guardatemi i dito com'è sinuoso Guardate Sembra un delfino Un delfino in mare Splash Splash Allora questo frigorifero poi Verrà applicato su della carta adesiva Color bengue Per richiamare Per richiamare la mobilia Oppure Ah si Cioè questo Andrà a fianco a questo E la panca andrà tutta sposta da lì Gioco da ragazzi Vedremo cosa uscirà Però devo comprare la carta adesiva La devo comprare E poi conviene Sì Sto vedendo un po' Sto vedendo un po' E i commenti E i commenti Comunque ragazzi Come avevo detto Troppo piccolo E vedevo il mio padre E il Danielino mi piace Quando vado dal barbiere Che mi fa la barba E mi prende di qua così E io così E poi mi dà più la ragione Che dice ora Lucia conferma La tesi di quando Saverio sia vecchio dentro In FL Ma io non è che sono Io sono un ragazzo retro Un ragazzo con la retromaccia Se fossi nato nel 1952 Che neanche il padre è nato nel 1952 ragazzi Però sarei stato tipo Una persona Non lo so Boh Boh Chissà Chissà Vabbò Amore comunque Ti do di una cosa Tu dici sempre Ragazzi i video saranno diversi Con meno pause Sarai Però puntualmente tutti i giorni Ragazzi Pausa Che dire Pausa Stiamo uscendo Altra pausa La mia vita è una pausa Pausa Che ingresa poi La pubblicità Che ingresa Pausa Vedi 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 Sono più belle le mie pausa Le mie I miei fermi immagini Un ragazzo sbarbato Così Si lo so che dico che saranno diversi Però alla fine Dovamo essere sinceri Dovamo essere noi stessi Alla fine Se vedo così ragazzi Posso piacere o non posso piacere Mi dispiace se non piaccio però Io sono me stesso ragazzi Sono me stesso Sono me stesso Sono me stesso Sono me stesso Beh facciamo un abbraccio a tutti quanti I 101 iscritti Non puoi ripeterlo ogni giorno Sei pesante Non che io non ci tengo i nostri 101 iscritti Anzi ci tengo e li ringrazio Però Cambia il commento Io stavo facendo i salutoni Stavo facendo I salutoni finali Cambia le parole del saluto Cerca di essere un po' Se dici cambiamo Cambieranno i video Saranno più allegri Più spruzzanti Come dici tutti A questo ora No amore Pura prima Vuole un video frizzante Sprezzoso Così Ma per favore Dai fai tu la sprezzi Mi dai Io quando parlo Ah vedi Ma si Ha perso le bollicine Non è così Di bollicine Non bollicine Ma vieni una sprezza Che vuoi Dai Vedi Vedi come si fa Come si fa Vedi Vabbò ragazzi Che dire Il video di oggi Termina qui Iscrivetevi Comentate Condividete Mettete un mi piace Ne dà la pagina facebook Che è abbastanza importante Così potete vedere tutte le nostre I nostri video E le nostre foto Quando le pubblichiamo Un abbraccio a tutti quanti Ai 101 iscritti Scrivetevi E Buona notte a tutti amici Ciao Aspetta A presto A presto